Il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto generale per l'anno finanziario 2023 della Regione Toscana. Approvata la proposta di legge sulle concessioni balneari dalla Regione Indicazione Omogenea in tempi rapidi ai 34 comuni costieri. Approvato il rendiconto finanziario 2023 della Regione. Approvato il rendiconto finanziario 2023 della Regione Toscana, 24 voti favorevoli del Partito Democratico, Italia Viva, 13 contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Merito e Lealtà. Rispetto al testo originario, per recepire le indicazioni formulate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti attraverso due emendamenti presentati dalla Giunta regionale, si è reso necessario accantonare dal risultato di amministrazione del 2023 35 milioni di euro attraverso risorse regionali correnti. Somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Fondo Sanitario 2023 per la compartecipazione agli oneri di ammortamento dei mutui per il finanziamento di investimenti sanitari. Il rendiconto 2024 ha portato dal 2015 al 2024 e 9 anni a ridurre il nostro disavanzo da 3 miliardi e mezzo a 1 miliardo e 2. L'abbiamo ridotto a un terzo di quello che era e contemporaneamente ha visto nelle società partecipate, sempre messe sotto accusa, sotto rilievo. In realtà la somma dei loro utili è superiore ai 10 milioni, 10 milioni e 470 e contemporaneamente ha visto quanto gli interventi sulla sanità in realtà siano stati opportuni e gli stessi oneri di ammortamento sui mutui che vengono passati dal Fondo Sanitario regionale al bilancio ordinario arrivano quando sono diminuiti da 96 milioni a 17 milioni. Quindi è una buona condotta contabile e finanziaria dei conti da parte della regione toscana che ci fa essere orgogliosi. Tra i dati da segnalare il risultato amministrativo dell'esercizio 2023 ha chiuso con un saldo finanziario positivo di 977 milioni e 899 mila euro in aumento rispetto all'esercizio precedente. Nel 2023 le somme accertate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono montate a 251,5 milioni di euro mentre l'incasso è stato pari a 159,10 milioni in aumento rispetto al 2022. Nel marito delle entrate è da rilevare l'aumento di quelle regionali di 454 milioni rispetto al 2022 con una diminuzione dell'IRAP di 44 milioni. Sul fronte delle spese si registra un aumento di 1.051 milioni rispetto al 2022. Nel 2023 sono poi state trasferite al bilancio della sanità risorse straordinarie per oltre 175 milioni di euro. Nel corso di quest'anno alla cassa sanitaria sono stati riversati già 152 milioni di euro. L'avanzo di gestione dell'esercizio 2023 raggiunge il tetto del miliardo. Questo testimonia una gestione attenta, oculata ed efficiente. C'è un tender altrettanto positivo che ormai è datato circa 8 anni dal 2015 che riduce sensibilmente lo sbilancio. Uno sbilancio che però deriva da normative che fino al 2015 consentivano di poter utilizzare le risorse disponibili in cassa per fare investimenti. Sono gli investimenti credo la parte qualificante del rendiconto perché c'è un'inversione tendenza. Si riduce la spesa corrente, aumenta la spesa di investimento. Il giudizio che noi diamo sul consuntivo, sul rendiconto 2023 è un giudizio positivo. Abbiamo accolto l'eccezione della Corte dei Conti ad una leggerissima correzione di 17 milioni su un ammontare complessivo di valori finanziari pari a 14 miliardi. La tenuta dei conti della Regione Toscana è un elemento importante. Non nascondiamo le difficoltà, le criticità che sono emersi nel corso di questi anni, però c'è un elemento di tenuta positivo che ci trova convintamente a sostegno di questa maggioranza, a sostegno del lavoro che viene svolto dalla Giunta regionale. È evidente una differenza di punti di vista di vedute se pensiamo alla questione che riguarda le tasse e non solo. Da parte nostra un'attenzione massima a non gravare mai sui cittadini toscani rispetto all'equilibrio dei conti con la possibilità di andare a ricercare le risorse anche in altri settori. Ci sono delle incongruenze. Ora poi che il nostro Presidente della Regione e la maggioranza la faccia passare come dei bigliettini di auguri mi sembra veramente eccessivo. Comunque la Corte dei Conti evidenzia delle criticità che nella parificazione non vengono comunque tenute in conto e che lei ribadisce e che poi le nostre partecipate sono partecipate da cui potremmo ottenere qualche cosa di più, non tanto come dividendi, ma dando delle impronte. La Corte dei Conti è stata assolutamente chiara nel mettere in evidenza come il disavanzo di amministrazione, che è un disavanzo per il rendiconto generale 2023, è un disavanzo molto importante, un miliardo e duecento milioni che verrà poi risistemato a seguito della riperimetrazione in virtù di quello che riguarda l'aspetto sanitario. È uno dei più importanti in Italia. Desta profonda preoccupazione lo dice la Corte dei Conti, non lo dice la Lega o il centrodestra. Per poi aprire a quello che è il passaggio principale, cioè una preoccupazione assoluta che riguarda la questione sanitaria. La Regione Toscana e il Presidente Gianni in particolare continuano a suonare come l'orchestra del Titanic, perché nonostante il miglioramento del disavanzo che passa da 3 miliardi e mezzo di euro a 1,2 miliardi nel giro di 10 anni, in realtà la Corte dei Conti ha messo a nudo tantissime contraddizioni interne. Un perimetro della spesa sanitaria che non diminuisce, anzi continua tendenzialmente a crescere e va all'82% complessivo delle spese del bilancio regionale. La gestione del personale è poco trasparente e poco efficace. Addirittura la Corte dei Conti ha messo in evidenza che su alcune aziende partecipate la Regione Toscana ha fatto delle leggi per violare gli stessi limiti di assunzione che si era imposta per tenere sotto controllo i conti pubblici. Dall'inizio di questa consigliatura non vediamo un cambio di passo, anzi vediamo purtroppo un costante ricorso all'indebitamento, un indebitamento che poi non si traduce in investimenti visibili e concreti o quantomeno in una semplificazione, in un'accelerazione in quella che è la quotidianità di ciò che dovrebbe essere realizzato. È una Regione che continua a ricorrere ai muti, è una Regione che non ha ancora ben chiaro cosa significa programmare, è una Regione che oggi stenta a decollare dal punto di vista del PNRR, quindi sostanzialmente abbiamo anni in cui non si sono fatte scelte coraggiose. L'ultima che aggiungo riguarda le società partecipate. Concessioni balneari approvata la proposta di legge. Criteri di premialità ed ecoindennizzo, indicazioni omogenee in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani in materia di concessioni balneari arrivano dalla Regione. È questo l'obiettivo dell'atto che va a modificare e attualizzare le disposizioni urgenti in materia di concessioni dei maniali marittime che disciplinano alcuni criteri e condizioni alle quali i comuni devono attenersi nell'espletare nel quadro della normativa statale di riferimento le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni per finalità turistico-ricreative. La proposta di legge è stata approvata con 30 voti favorevoli del PD Italia Viva e Lega, 3 voti contrari del Movimento 5 Stelle e Forza Italia e 6 voti di astenzione dei Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Noi abbiamo approvato oggi una norma che prevede l'ecoindennizzo, cioè prevede di poter rimettere in concessione per un certo numero di anni tenendo conto che chi ha fatto investimenti quegli investimenti gli devono essere riconosciuti. Penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare il massimo possibile, quindi il mio è un appello al governo, non si può continuare a tenere tante imprese in una condizione di non chiarezza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, sappiamo che abbiamo fatto una norma molto forte anche rispetto al rapporto tra Stato e regioni, ma l'immobilismo del governo ci ha portato a farla. La proposta di legge è stata illustrata in aula dal Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Gianni Anselmi. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equindennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale ma nel frattempo, nel 2021, reintrodotto dal governo Draghi con una legge e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equindennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto e anche al valore redditoriale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale che avrà 45 giorni di tempo la redazione delle linee guida dove questo equindennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Più si è piccoli, micro o medie più si avrà una tutela perché uno dei rischi è che i nostri stabilimenti balneari nell'ambito di procedure competitive sregolate, diciamo così, siano travolte da grandi gruppi, in particolar modo multinazionali che hanno risorse imponenti e che rischiano però di spoliare di identità il sistema dell'offerta turistico-balneare. Andrea Ulmi ha dichiarato che l'ammontare del pagamento delle concessioni è un fatto vergognoso, per anni e anni sono state versate delle somme irrisorie e per questo l'argomentazione di questa proposta di legge è in visa alla popolazione. Hanno approvato la legge sui balneari. Io mi sono astenuto perché ci sono dei distinguo che dobbiamo fare e che ho fatto anche nel mio intervento. Tutta la legge è imperniata sul giusto ristoro a coloro che una volta che ci dovessero essere le gare perdessero la loro concessione. Ma nessuno pensa a quanto lo Stato rimette dei canoni concessori. È giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equindennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica perché non sanno come e quanto investire nella loro attività. Ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda che muove migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro e che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. L'impressione è che si voglia sminuire l'intelligenza di chi fa l'imprenditore in questo settore. Tutti comprendono perfettamente la fragilità di questa legge, ha dichiarato Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia. Ci siamo assenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa, stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente da qui il nostro voto di astensione perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico. Per Elena Meini esistono dubbi su una norma che in parte si sostituisce allo Stato e in parte si sostituisce agli enti locali. Sicuramente il tema dei balneari è un tema che alla Lega è sempre stato e starà sempre a cuore. Crediamo che in questo momento in un vulnus nazionale la regione toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di prima realità per quelle che sono le micro piccole e medie imprese che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari e quello che è il principio appunto di eco indennizio e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatti le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie che poi sono imprese però sono persone, sono famiglie che garantiscono il servizio dello stabilimento quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari e che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo sia dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse che stiamo attraversando proprio sul tema della Bolkestein. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, René Galletti, ha annunciato il voto contrario del gruppo che nasce dalla perplessità sullo strumento usato. Questa proposta di legge come quella del 2022 è inutile e anzi dannosa perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal Governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà la scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti, c'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare le impostazioni a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati, invece con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera abborracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare.